Giuseppina Mannino, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Manzoni-Giuvara di Caltanissetta. Sabato 11 marzo alle 18.15 parte nel suo istituto la 67esima stagione concertistica Amici della Musica dedicata al maestro Giuseppe Pastorello. Qual è il connubio tra la sua scuola e l'associazione? Sì, la scuola che io dirigo è anche un liceo musicale, dunque è un'opportunità veramente grande collaborare con l'associazione Amici della Musica del maestro Pastorello per dare l'opportunità a musicisti giovani e anche meno giovani di fare musica a scuola, quindi di aprire la scuola al territorio, far sì che molta gente si avvicini e si accosti alla musica per il piacere di stare insieme e di ascoltare buona musica, una musica che sicuramente coinvolge e che permette la socializzazione e che riesce veramente a dare alle nostre persone tanta serenità e tanta gioia. Il primo appuntamento, come abbiamo detto, sabato 11 marzo, l'ingresso è gratuito, a cosa si potrà assistere? Sì, sabato cominciamo, appunto come diceva alle ore 18 e 15, ci sarà una suonata pianoforte e altri ragazzi che si esibiranno, e quindi si potrà assistere a questo primo momento musicale, seguiranno poi altri momenti musicali sempre sabato, di sabato alle 18 e 15. Comunque è un momento importante per la scuola e per l'istituto Manzoni-Iuvara che come dicevo tra i suoi indirizzi, c'è anche un liceo musicale, un liceo che prepara proprio i ragazzi alla musica e al monto veramente grande e straordinario dei concerti. I ragazzi sono entusiasti del liceo musicale? Sì, i ragazzi siamo già al quarto anno, sono ragazzi di quarto anno, sono molto contenti di questo indirizzo di studi che hanno intrapreso, anche perché i ragazzi fanno strumento, studiano, oltre alle materie curriculari d'obbligo, ecco, in un liceo, anche l'opportunità di conoscere e di suonare due strumenti, quindi a scelta proprio dei ragazzi.